Reas è quell'occasione che tutti gli anni si presenta per noi ambulanzieri e allestitori per presentare le innovazioni che ci sono nel settore dell'emergenza e del trasporto. Quest'anno festeggiamo più di 20 anni di attività e svariati veicoli prodotti e ci siamo voluti fare un regalo sia per noi che per tutti i nostri clienti allestendo, progettando e disegnando Maxima, l'ambulanza del futuro, anzi il futuro delle ambulanze. Maxima è stato un prodotto realizzato in collaborazione con Fiat Professional e totalmente sviluppato da parte di Orion. Permette di avere 5 grandi pannelli coibentati, rinforzati metallicamente all'interno ed una superficie in asa. L'asa è l'evoluzione del vecchio e un po' obsoleto ABS permette di avere una superficie antibatterica e antigraffio. Ecco che nel settore dell'emergenza e quindi delle innovazioni che si possono riscontrare a Reas di Montichiari anche 2019, questa non è un'innovazione, è uno stravolgimento, una rivoluzione del settore dell'emergenza nel rispetto della normativa 1789 europea. Noi in Fiera abbiamo sempre grosse soddisfazioni perché la Fiera non è un momento di vendita puro, è un po' un momento nel quale si vede i nostri clienti, è un momento anche di convivialità, anche perché noi consideriamo i nostri clienti un po' la grande famiglia Orion. Tutto l'investimento sviluppato negli ultimi 20 mesi per arrivare a questa realizzazione è proprio nell'ottica europea, infatti ci volevamo affacciare anche a tutto quello che riguarda la normativa e l'esigenza che si trova in tutta Europa. Ci chiamano un po' i sarti dell'ambulanza perché riusciamo dalla Val d'Aosta alla Sicilia a realizzare proprio l'ambulanza per quel cliente. Ne produciamo più di 450 all'anno ma non ce n'è uno uguale a quell'altro perché cambiano i clienti, cambiano le esigenze, cambia il territorio in Italia e quindi è bene che l'allestitore vada incontro alle necessità del cliente.